Gigi, Gigi, cosa hai preso nella verifica di chimica? Ho preso 4. E cosa hai preso? E prima che mi chiedi cosa ho preso la volta prima, ho preso 4-4, cioè 44. Gigi, tu non prenderai mai la sufficienza. Tu sei come un atomo di carbonio che non può formare più di 4 legami perché ha solo 4 orbitali disponibili. Non può averne 5 né tantomeno 6, così come tu non potrai mai avere 5 in pagella né tantomeno 6. Grazie Tina per l'incoraggiamento. Tu sei come un gas nobile. Che gentile che sei. Sì Gigi, tu sei un atomo di elio e la sufficienza è un atomo di idrogeno. È impossibile che vi leghiate. Qual è l'atomo più pesante Tina? Loganesso, numero atomico 118. Niente in confronto alla tua pesantezza Tina.